quanto ci fa soffrire questo calcio ha detto fabio caressa al termine della telecronaca è vero quanto ci ha fatto soffrire questa sera la nazionale finita 1 1 con la croazia è un pareggio che sa di vittoria in un certo senso per come è maturato per il fatto che comunque è meritato perché non meritavamo di perdere onestamente non è che si sia fatta una grande partita ma non l'ha fatta nemmeno la croazia è una partita epica per certi versi perché siamo riusciti a gestire bene i suoi tempi nel primo tempo nel secondo tempo come previsto dall'andazzo delle altre gare della croazia loro sono saliti di ritmo e ci hanno messi in difficoltà fino arrivare al calcio di rigore che e poi donnarumma aveva anche parato a modric anche questa sera donnarumma certezza là dietro è certezza là dietro aveva subito battezzato la partita con una grande parata sul sinistro di sucic e poi e poi quando pensavi di averla sfangata quando pensavi che insomma che quel rigore sbagliato avrebbe ammazzato i croati ecco che all'improvviso parte un cross è un rimpallo una mezza roba lì insomma e modric era lì pronto a battere in rete a quel punto a quel punto devo dire è uscita fuori un'altra italia sì un po ruffona un po confusionaria ma anche molto molto caratteriale è un po quello che era accaduto anche con l'albania nella prima partita abbiamo preso il gol c'erano riuniti avevamo avuto una grande reazione questa sera abbiamo fatto la stessa cosa e per una buona fetta come si vede una buona fetta del secondo tempo gli abbiamo davvero gli abbiamo davvero assediati abbiamo davvero costretti nella loro area addirittura portando il pallone però con poca pericolosità nel complesso con poca pericolosità nel secondo tempo i nostri xg sono stati 0 64 e 0 42 nel primo poco più del primo quindi alla fine non grandi pericolosità perché noi facciamo girare anche bene il pallone poi c'erano questi cross anzi questi tentativi al limite dell'area di fare il filtrante di mettere proprio di entrare in porta col pallone non abbiamo mai non siamo mai stati capaci di creare lo spazio per tirare da fuori poi la partita è scivolata è scivolata a un certo punto poi ci sono stati tutti i cambi poi la croazia ha fatto i cambi poi ovviamente hanno cominciato a perdere un po di tempo e noi insomma non ci siamo comunque innervositi devo dire la verità questa sera abbiamo mantenuto abbiamo mantenuto una certa un certo nervosaldo un certo nervosaldo abbiamo mantenuto comunque il contatto con la partita non l'abbiamo persa tant'è che hai trovato il gol all'ultimo secondo praticamente siamo arrivati lì siamo arrivati all'azione di uno dei migliori in campo ed è giusto anche che uno dei migliori giocatori italiani di questo europeo dopo donnarumma naturalmente che è il migliore per distacco di tutti ovvero calafiori sia stato il protagonista dell'azione del gol con una discesa che ha ricordato i grandi liberi di una volta che prendevano il pallone si sganciavano e andato fino al limite l'area a quel punto io gli ho detto tira tira accidenti tira sei lì tira no invece lui ha fatto la cosa giusta l'ha passata a zaccagni e ha consegnato la vittoria della partita spalletti quando segna è uno che subentra la vittoria è sempre dell'allenatore in realtà ecco venendo al discorso spalletti eravamo partiti in questa serata che sono serate poi che servono perché ti fanno proprio ti fanno avete aiutano a buttare giù qualche chilo no se col chilo di troppo guardi le parti tieni spenta l'aria condizionata ti guardi qualche partita è a e ti asciughi che è un piacere la serata era cominciata con i spalletti pensiero con lo spalletti pensiero cioè dopo aver passato tutto il giorno a parlare della formazione che pensavamo lui tira fuori il 352 tira fuori 352 con darmi con bastoni e con calafiori con di lorenzo di marco esterni e poi il triangolo centro campo formato da pellegrini barella e giorginio con il doppio attaccante raspadori retteghi ed effettivamente questa è una scelta che ha pagato ha pagato in termini di controllo del ritmo della partita quello che il commissario tecnico aveva detto ieri in conferenza stampa noi dobbiamo essere bravi a capire i ritmi della partita i ritmi della partita sono stati compresi non stati compresi quasi sempre in questa partita perché noi abbiamo provato a offendere nel primo tempo grazie a due cose buone cioè i due esterni larghi che spesso hanno trovato lo spazio e poi i movimenti di raspadori che è vero non ha costruito occasioni da gol ma è stato tremendamente utile in tante situazioni per venire incontro per raccordo per combattere anche su certi palloni per diventare l'elemento che all'interno di un sistema tattico dove comunque le contromosse si possono prendere è quello che scompiglia un po' perché la marcatura è difficile perché non sai chi lo deve andare a prendere perché comunque la difesa croata che questa sera si è comportata abbastanza bene aveva ecco aveva un po' di problemi nel anche perché poi sai per la questione anche questa che quando tu giochi con brozovic cova cicce modric al centrocampo uno perché è andato in arabia uno perché ha l'età che ha e l'altro perché non è mai stato un centometrista e neanche un maratoneta è chiaro che tu li puoi mettere in difficoltà se magari l'aiuto degli attaccanti non è così determinante nella tua fase di non possesso quindi la croazia non sapeva con chi andare a prendere l'aspadori l'aspadori ha fatto una buona partita veramente anche perché ha aiutato seppur anche qui in maniera non molto incisiva ma ha aiutato il centravanti se non altro ha aiutato il centravanti questa sera retegui retegui a far vedere che c'è perché comunque ha iniziato la partita con un'occasione perché comunque ha combattuto ha preso dei falli e ha dimostrato anche perché scamacca va messo in panchina a parte che scamacca è entrato ha fatto la prima cosa un colpo di tacco e lì se non ho spaccato la televisione è solo perché ci tengo e non vale la pena romperla per uno scamacca ma già questo ti fa capire che e qui mi fermo e qui mi fermo perché chi mi segue sa che queste cose su scamacca le ho sempre dette ma ma al di là di questo al di là di questo l'idea questa sera era quella di essere innanzitutto più proattivi le parole tiro fuori più proattivi cioè più attenti a pressare nel modo giusto spostarsi di squadra nel modo giusto cercare di dimostrare che la partita dell'altra sera con la spagna è stato un ribaltù un rovesciamento diciamo di di convinzioni che questa sera invece le condizioni saremmo andati a riprenderci e così è stato per il primo tempo perché è stato primo tempo comunque giocato con una con una buona predisposizione tattica non a ritmi forse nati naturalmente che ha favorito da un lato il palleggio della croazia ma dall'altro anche il nostro stare meglio in campo molto meglio rispetto alla partita di giovedì però è chiaro che in una condizione del genere dove alla croazia serviva vincere inevitabilmente poi nel secondo tempo loro dovevano cambiare qualche cosa e qualcosa l'hanno cambiato hanno alzato la loro pressione si sono distribuiti un po più alti sul campo noi ci siamo anche in un certo senso così non dico ritirati però abbiamo accettato di difenderci così di sperare in qualche ripartenza no perché poi alla fine del primo tempo c'era stato c'era stato il il cambio era entrato frattesi al posto di pellegrini e questo voleva probabilmente far intendere che se ci fosse stata la possibilità di andare di più in contropiede e meno di possesso l'avremmo fatto e così infatti è stato tant'è che poi tant'è che poi abbiamo provato aspettare però le ripartenze non è che siano state un granché e lì è nato è nata la situazione del calcio di rigore fallo di mano proprio di povero frattesi che è andato in campo e ha provocato il rigore rigore indiscutibile e e donna ruma fa una grande parata per questo modo dice una grandissima parata passato lo spavento ma non gabbato lo santo purtroppo abbiamo preso subito il gol e lì ci sarebbe stata davvero lì ci sarebbe stata davvero la possibilità o per meglio dire il rischio per meglio dire il pericolo di ripiombare improvvisamente nel buio totale perché è vero che anche con la sconfitta dato che dall'altra parte la spagna stava battendo l'albania tu ti saresti messo nella condizione di molto probabilmente 90 su 100 essere ripescato ma potevi anche subire altri gol in quel caso la differenza reti sarebbe potuto diventare qualche sarebbe potuto diventare un problema invece abbiamo devo dire approcciato al tentativo di recupero nel modo migliore anche con i cambi di spalletti abbiamo veramente costretto la croazia a difendersi abbiamo veramente tirato tirato via quell'ultimo briciolo di fiato che avevano l'alice costretto a fare è stato costretto a fare dei cambi per mettere dei giocatori insomma ha tolto ha tolto modrice ha tolto kovacic poi ha tolto anche kramaric insomma si è si è si è non solo si è coperto un po ma anche messo dentro gente che potesse avere un po di polmoni per correre dietro ai nostri no ecco e poi cosa è successo è successo che alla fine tra un crampo di quello tra una munizione a quell'altro tra pippo papa va otto minuti di recupero e all'ultimo istante degli otto minuti di recupero è successo quello che io non credevo accadesse vi dico la verità questa partita l'avevo data persa a circa un quarto d'ora dalla fine quando si è quando si è aspetta che te lo faccio vedere vedi qua quando si è verso la fine di quel grafico no verso diciamo la tua destra tu stai guardando il grafico che scorre dall'inizio alla fine della partita quando quella curva cominciò ad alzarsi così ecco lì ho detto no qua noi ha fama poi finita mi sono seduto con la schiena perché io sto diciamo sto così fin tanto che ci credo quando non ci credo più mi appoggio con la schiena mi sono appoggiato con la schiena poi tutto sudato ora poi mi sono alzato in piedi e poi così e poi cola insomma davvero tant'è che poi quando ho visto quella discesa di calafiori ho detto porca miseria vuoi vedere questo va a tirare vuoi vedere che questo pazzo ragazzo meraviglioso va a tirare e si prende la giusta ricompensa per essere stato ai lui e ai noi il protagonista della sconfitta con la spagna e invece non ha tirato e invece ha servito zaccagni il quale da posizione non facile con un tiro a giro di destro tutt'altro che banale è riuscito a battere rivacovic questo è un gran gol è questo un gran gol perché tirare in quel modo da quella posizione in quel momento della partita dimostra che il piede ce l'hai e poi zaccagni ce l'avesse il piede lo sapevamo che potessi usarlo in quella circostanza per il bene di un'intera nazione beh quello magari lo speravamo e basta invece questa sera l'abbiamo anche scoperto fine del racconto della partita ora ovviamente ci vuole ci vuole insomma ci vorrebbe un grappino adesso però si può andare a dormire troppo tardi niente grappino e adesso ci vuole un attimo di testa di mettere da parte le emozioni perché c'è un ottavo di finale da giocare con la svizzera a berlino una partita difficilissima a questo punto ma potranno essere tutte difficili o tutte facili per noi a seconda di come la si prepara a seconda del momento certo abbiamo un problema abbiamo prima dell'attacco è un problema che facciamo fatica a segnare facciamo fatica e questa sera anche al di là di quelle occasioni reteghi all'inizio le più grandi occasioni e del gol ovviamente da poco ma le più grandi occasioni le ha avute bastoni un'altra volta bastoni è il giocatore che ha avuto più occasioni addirittura con avevo visto una cosa tipo xg 0 37 tanto per farvi un paragone raspadori ha un xg di 0 13 e reteghi ha un xg di 0 19 tanto per dire qual è stato il giocatore più pericoloso dell'italia è stato alessandro bastoni e questo è un problema però però si entra in una nuova fase in una nuova dimensione siamo riusciti a superare un girone molto complicato che ci siamo anche complicati un po' da soli vedi giovedì scorso che ci stavamo complicando anche questa sera seppur ripeto nel contesto di una partita che non ha nulla a che vedere col 2014 che non ha nulla a che vedere col 2010 tanto per rifarci all'anniversario oggi no il 24 giugno è stata una partita dove l'italia è stata dentro alla gara e dove non meritava di perdere questo lo devo dire apertamente adesso comincia un'altra cosa è una nuova fase è la fase eliminazione diretta non c'è più calcolo ma non c'è neanche più margine d'errore adesso non è che puoi fare una andare a pensare a fare ma quelli provoca no adesso spalletti deve sedersi guardarsi allo specchio cosa che penso faccia perché un uomo saggio intelligente e deve indirizzare il proprio pensiero all'italia che lui ha in mente all'italia che lui vuole e alla migliore formazione possibile per affrontare un avversario tutt'altro che banale come la svizzera grazie a tutti e forza italia